ok gemelli è ora della storia che ne dite della storia di riccioli d'oro e tre orsi sì c'era una volta in una casa nel bosco vivevano tre orsi che mangiavano più non posso mangiavano il porridge dalla sera alla mattina il papà bollente la mamma freddo il bimbo un po un po sono papà orso sono grande e coraggioso sono mamma orsa so ruggire tanto forte sono un bimbo orso questa è la mia sedia siamo i tre orsi i tre orsi decisero di mettere un po di miele nel loro porridge così si incamminarono nel bosco lì in quel bosco vive una bambina sono dorati i suoi capelli a tanti ricciolini tutti la chiamano riccioli d'oro eccola che va ora devo andare dentro il bosco oh guarda ho trovato una piccola casa e busserò sulla porta non c'è nessuno bene perfetto e lei entrò dentro casa riccioli d'oro ancora non sapeva di essere entrata nella casa dei tre orsi wow guarda la una tavola imbandita bene perché ora ho proprio voglia di una tazza di porridge tutta per me ehi ce n'è una aspetta son due no guarda son tre il porridge di papà è troppo caldo il porridge di mamma è troppo freddo il porridge del bimbo è perfetto dopo che riccioli d'oro si era riempita di porridge si sentiva così piena che vuole riposarsi la sedia di papa orso era troppo dura la sedia di mamma orso era troppo morbida infine la sedia del bimbo orso vediamo oh wow questa è perfetta ma lei era troppo pesante per quella sedia così si rompe ops ora si sente decisamente stanca e decide di salire le scale per stendersi sul letto il letto di papa orso è troppo duro il letto di mamma orso è troppo morbido infine il letto di bimbo orso vediamo oh wow questo è perfetto appena lei si addormentò i tre orsi tornarono a casa e scoprirono di non essere soli qualcuno ha mangiato il porridge di papà qualcuno ha mangiato il porridge di mamma qualcuno ha mangiato il porridge dell'orsetto vediamo oh povero me me l'hanno finito tutto qualcuno si è seduto sulla sedia di papà qualcuno si è seduto sulla sedia di mamma qualcuno si è seduto sulla sedia del bimbo roccia gli orsi non erano per niente felici e andarono al piano di sopra per cercare l'intruso qualcuno ha dormito sul letto di papà orso qualcuno ha dormito sul letto di mamma orso qualcuno ha dormito sul letto di bimbo orso fammi vedere oh povero me lei è lì chi sei tu? sono riccioli d'oro chi siete voi? siamo i tre orsi hai mangiato il mio porridge hai rotto la mia sedia hai dormito nel mio letto e questo non è giusto scusa riccioli d'oro capisce di non essere stato un ospite gradito e i tre orsi la cacciano fuori di casa le corse forte verso casa senza più tornare è una buona lezione lei imparò gli orsi si fecero grosse risate e vissero tutti felici e contenti fine fine pronti per una storia nuova piccoli gemelli? sì che ne dici di Jack e i fagioli magici? perfetto Jack viveva in una fattoria faceva tante cose lavorava duro un bel giorno la mamma vide che i semi non avevano più che cosa faremo che cosa faremo? che cosa faremo? ci servono soldi per semi e cibo Jack vai verso la città per vendere la mucca Jack Jack prese la mucca andò in città ed incontrò un uomo là un'occasione un'occasione giusta per te i miei fagioli magici fagioli magici che cosa fanno? li pianti e diventeranno giganti piantali nella terra e durante la notte cresceranno fino al cielo Jack ha venduto la mucca all'uomo prese i fagioli nella sua mano quando li mostrò alla sua mamma lei era molto arrabbiata che cosa faremo? che cosa faremo? che sciocco ragazzo ti hanno ingannato la mamma era triste e anche Jack così getta fuori i fagioli sull'erba la mattina cosa vide Jack una pianta di fagioli grande grande così alta e verde arrivava fino al cielo questo è uno stelo io devo arrampicarmi si arrampicò e si arrampicò tra le nuvole una porta trovò guarda quel castello davvero grande mi chiedo chi ci viva lassù poi la porta si spalancò poi la porta si spalancò dentro c'era una donna gigante guardò Jack e gli disse di entrare ti preparo qualcosa da mangiare le cucinò le cucinò per il ragazzo ma alla porta si sentì un grande tonfo 5 5 4 4 sento odore di ragazzo Jack si spaventa e scappa via scende giù dalla pianta di fagioli prende le monete d'oro per la strada e le porta alla mamma il giorno successivo il giorno successivo sale nel cielo trovo un uovo d'oro nel castello lassù 5 5 4 4 sento odore di ragazzo Jack si spaventa e scappa via scende giù dalla pianta di fagioli prende l'uovo d'oro per la strada e lo porta alla mamma il giorno successivo sale nel cielo trovo un arpa d'oro nel castello lassù 5 5 4 4 sento odore di ragazzo Jack si spaventa e scappa via ma il gigante lo insegue per la via scende veloce dalla pianta di fagioli e tac tac la taglia via ora Jack e la mamma hanno tanto oro e saranno sempre tanto ricchi entrambi vivranno per sempre felici felici e contenti Jack e i fagioli magici si 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 fin fin e yeah c'è 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 c'è